Ciao a petta! Oggi una semplice illustrazione con due cerchietti, un pungiglione, due alette e magia, c'è una pirae che è magia Mettiamo anche le zampette e le antennite, almeno si capisce che si sta levando dai coglioni, ci dà la schiena Poi pittiamo un po' di giallo e di nero per fare il corpo, anche se vengono un po' a contatto va bene lo stesso Attenti a non fare una pozzanghera di schifo Per le ali basta allungare un pochino il nero che fa un grigetto A cui aggiungiamo una lacrima di azzurro che non si vede mai nella vita, nella realtà, ma va bene E allora cosa lo metti? A sto punto quest'ape non ha alcun senso di esistere Quindi mettiamo delle simpatiche piantine di lavanda E sono veramente due pennellate, sono quattro foglie che passano di lì per sbaglio E ciao a petta, vattene dalla lavanda